amici della windows teca eccoci alla prova di registrazione dei video del nuovo nokia lumia 820 ricordo che questo è un video girato in full hd quindi a 1080p e ricordo inoltre che non è possibile eseguire lo zoom durante la registrazione infatti bisogna prima impostare il tipo di zoom che vogliamo e poi far partire la registrazione la qualità dal telefono sembra davvero molto buona ma ovviamente prima bisogna importarlo sul computer e poi vedere la reale qualità dei video anche se come ho già detto qua dal telefonino sembra davvero molto buono sicuramente metto anche del bellissimo display di questo device amici della windows teca eccoci a un'altra prova di registrazione dei video in full hd del nuovo nokia lumia 820 questo è un momento particolare perché come vedete c'è il tramonto e devo dire che la fotocamera reagisce davvero molto bene ai cambi di luce guardate un po' adesso è molto scuro perché si sta focalizzando soprattutto sul tramonto quindi sulla luce del sole che piano piano sta crollando ma vedete che adesso girando guarda con quale velocità cambia la luce e mette perfettamente a fuoco la situazione attorno quindi davvero una risposta immediata della fotocamera che reagisce perfettamente ai cambi di luce questo dimostra proprio che è gestito sia benissimo dal suo software ma soprattutto dalla fotocamera in sé direi che per questa piccola videoprova è tutto un saluto da mister nk style grazie a tutti